Roma è in tre parole con bellezza, fascino e solarità. Eterna, caotica e appassionante. Bella, sprecona, incasinata al massimo. Poi qui c'è la romanità vera, c'estano le vere archeologie, tutto. Roma sicuramente ha le bellezze su naturali. E penso che il grande vantaggio che c'è a Roma sono i romani. Non lo dico per presunzione, ma è verità. Mi piace tanto che quando vado in giro mi sento proprio nel centro del mondo. Il postere per un romano è fondamentale. Da bravi italiani. Abbastanza bene, anche perché dove vai, vai, mangi bene. No, vabbè, Roma è Roma. Io penso anche per persone che viene, turisti, stranieri, penso che si trovano... A parte i monumenti, vabbè, è unica. Penso in tutto il mondo, non so quanti ce ne saranno come Roma. Vabbè, siamo abbastanza orgogliosi. Vabbè, diciamo. Vabbè, c'è un'altra cosa che vuoi. Vabbè, c'è sempre molto importante in Roma, in cui c'è la storia di Roma. Vabbè, in cui c'è la storia di Roma, c'è la storia di Roma. e come come to our tastings from beginners to very experienced very knowledgeable wine drinkers you do learn something here but you do also have fun the reason I started offering these wine tastings was I loved wine, I wanted to drink more I wanted to learn more about it and I kept on running into this wall of arrogance wine can be matched with all kinds of dishes you don't have to be in a Michelin star restaurant to do a wine pairing it can be with very daily cooking with cucina polvera with the awful rich dishes of Rome for example as well what I would say is you like what you like some of us like more acidic things more sour things and just like with food we have different tastes in wine and it's perfectly fine but you should also maybe be open to listen to suggestions be open to trying something new and you might discover something that you like we decided today that according to what we found we're going to do like a spring soup which is made with fava beans and artichokes cups is basically the restaurant part of Romeo and it's a daily bakery and a restaurant but of course this is not a regular restaurant and we don't even want a regular restaurant as you can see you can stand right here you can sit on a stool and eat I try to do a closed circuit production and selling so I try to buy at the market transforming the market and selling at the market for instance we do like a potato octopus squid ink mayo pesto panino si è creata un po' questa cosa quindi è esplosa questo cibo di strada i street food insomma le apette tutta questa questo mercato è integrato nella cultura del quartiere e non solo del quartiere perché questo mercato è stato costruito sopra mare archeologica erano i vecchi magazzini del romano questa è la grande forza di questo posto che ho un magazzino di 300 metri quadrati per l'ora so here you can buy great coffee great chocolate you can find gluten free stuff i love this experience because to cook in different environment like this one in open space it's awesome sono giorgio faccio sono un volontario e la mio compito qui per muro essere una sorta di producer e guida esperta di street art visto che poi essendo a contatto con gli artisti muro è un progetto che nasce nel 2010 e l'idea è proprio quella di creare un museo a cielo aperto quindi allo stesso tempo oltre che realizzarli murales c'è la ferma intenzione di mantenerli di proteggerli I love that people can see my paintings it's a free art it's a public art it's amazing that people can see the ancient art of Rome mixed with the new art of Rome not to stop only in front of Coliseum or in front of Saint Peter but to see and to search venire a Roma riescono ad unire entrambe le cose riescono a vedere bellezze artistiche che hanno tantissimi anni allo stesso tempo opere contemporanee quindi ne escono tutti arricchiti in qualche modo comunque in questo live si richardano si richardano e non si ricordano e quindi non lo voglio oviparare i nostri amici la mia figlia l'idea delle bellezze Grazie a tutti